Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Ecco, proviamo sempre di... facciamo un esame di coscienza basato sul Vangelo. Ecco, possiamo pensare un po' che cosa era la nostra reazione quando le persone non ci hanno trattato come abbiamo aspettato di essere trattato. Che cosa era la nostra reazione? L'esame di coscienza più in fondo qui sarebbe... abbiamo visto quando ci sentiamo trattato male, abbiamo visto le cose soltanto dal punto di vista nostro, a livello orizzontale, al mondo. Abbiamo cercato di vedere dal punto di vista di Dio quelle situazioni in cui ci sentiamo maltrattati. Ecco, come abbiamo fatto un salto di fede, stiamo stati lì in quello di brontolare in ogni colore. Ecco, fino a che punto è la nostra fede in quella situazione? Ho sentito alcune belle risonanze che penso che in un modo o l'altro possiamo tutti trovarci in una di queste letture, in particolare nel Vangelo di oggi. Che cosa avremmo fatto noi in quella situazione del Vangelo? Penso che se siamo onesti dovremmo dire che avremmo fatto come quello che è brontolato. Sai che mi viene in mente anche quanto siamo presi dalle situazioni senza guardare al di sopra e al di fuori? Perché se pensate un po', una persona tipica di oggi che ha un lavoro normale, una casa normale, con tutta la tecnologia, ha molto di più che i ricchi 500 anni fa. E nonostante quello, i ricchi 500 anni fa, ha capito come è tutto relativo. Ma per questo di nuovo, questo discorso di quanto è difficile però anche quanto è importante di cercare di guardare le cose dal punto di vista un pochettino più alto, dal punto di vista di Dio. Penso che anche lì proprio la prima lettura sta dicendo la stessa cosa. La prima lettura Isaia ci dice che i pensieri di Dio sono al di sopra di ogni cosa, no? Ma quanto è difficile e quanto, dobbiamo confessare direi, no? Quanto è raro che veramente alziamo i nostri pensieri cercando di vedere dal punto di vista di Dio invece la nostra problematica ogni giorno, l'invidia e l'invidia e la gelosia e ogni cosa nel mondo e dimentichiamo così facilmente quanto misericordia Dio ci ha dato, quante belle cose ci ha dato, la prima lettura largamente ci perdona ogni cosa nel mondo, di guardare in su. Proprio sapete che anche la parola essenziale in greco per conversione è metanoia, che proprio fondamentalmente la parola in greco mette in noi a volte proprio quello di vedere da un altro punto di vista, cambiare il punto di vista, conversione fondamentale è quello. Siamo così presi dal nostro piccolo guscio, dal nostro egoismo che... e cioè anche quanto anche le persone che mi viene in mente anche da questo punto di vista pensando di Dio, no? che... che... per esempio quando io faccio un funerale, no? le persone magari sono lì nella chiesa e la grande maggioranza nel funerale normale non vengono la domenica e sono lì, no? per... soprattutto per magari rispetto umano per quei amici, è morto qualcuno, eccetera, eccetera e quante volte non facciamo quel punto di vista di ricordare Gesù quanto ha sofferto per noi sulla croce? Pochi giorni fa c'era il 15 settembre, no? Subito il giorno dopo l'esaltazione della croce, cioè lì c'era la festa della Maria dolorata Quante volte mettiamo nei panni di Maria ai piedi della croce? Quante volte riusciamo di fare come Maria ai piedi della croce che totalmente ha dimenticato se stessa e perciò soffriva incredibile di vedere il suo figlio Gesù sulla croce? Veramente facciamo così? Prima di tutto per Gesù sulla croce? O soltanto con le persone che vediamo con questi occhi? Fino a che punto è la nostra fede dopo tanti anni come cristiani? E anche come, no, la... Padre Pio diceva che la via cruce sia la preghiera più gradita a Dio dopo la Messa e poi anche quante volte anche noi possiamo essere così insensibili, insensibili agli altri di dimenticare facilmente che tutto quello che abbiamo viene da Dio e che questa... Mi ricordo una volta ho parlato con la mia sorella per telefono che negli Stati Uniti la mia sorella maggiore che ha un lavoro molto buono e come responsabile di un ospedale della grandezza del Silvestrini guardando un po' di soldi perché il suo marito ha un lavoro molto buono che lavora con i piatti formi in tutto il mondo per olio e una volta mi ha mandato qualche anno fa un'email che ha comprato un Porsche e allora ho detto ai sacristani a Maggioni e Pula un Porsche? Vendi quella cosa dai poveri Pula mi ha dato i cicchetti cioè è una buona cosa di comprare un Porsche e la mia sorella a quella telefonata aveva veramente un atteggiamento forte che questi sono i miei soldi per chi ho guadagnato quei soldi l'atteggiamento per tanti è così, in particolare quelli che guadagnano bene e io ho detto a lei un pochettino i certi sacrifici che io faccio per poter dare più soldi ai poveri per esempio, certo voi non potete fare questo perché non siete da solo come me cioè durante l'inverno non riscaldare il mio appartamento penso a un bel giubbotto però si riscalda un bel po' e dopo tutti quei soldi a quelli che stanno morendo di fame in Africa non so dove con il gruppo aiuto alle chiese che soffre ma la mia sorella non ha capito niente di quel discorso e non voleva più parlare cioè questi e poi anche dal nostro punto di vista per chi ha un po' di fede come Gesù dice, beati poveri perché normalmente sono meno attaccati a questo mondo possono pensare di cambiare di nuovo quel punto di vista e così ecco tornando a questo tornando a questo Vangelo siamo felici quando gli altri ricevono più di noi o sono più onorati più di noi siamo contenti ho dimenticato di stampare c'era il segretario di Santo Papa Pio X il suo segretario che adesso è abbiato che era cardinale ha detto ogni giorno ha promosso anche diciamo la litania di umiltà la litania di umiltà forte anche proprio quello che lui diceva in quella litania sono più contenti quando gli altri fanno meglio di vivere qualcos'altro è una litania di umiltà forte forte e lui è diventato anche abbiato e poi lui è secretario più decimo e che e che e poi la pensando che è difficile vivere questo Vangelo di oggi e anche voi cercate di pensare in una situazione tipica che dopo tanti anni di lavoro o in gruppo nella chiesa della procura civile e tu e tu prendi più responsabilità prestigio stima onore e poi a un certo punto giusto o non giusto tu perdi la tua posizione che cosa è la tua reazione e perché anche guarda questa è una tentazione anche forte per tutti noi perché perché e più e più responsabilità abbiamo davanti alla gente e più c'è la tentazione di essere attaccato a quello e tutti i santi ci dicono che e più responsabilità che tu hai e più devi avere più umiltà più umiltà e e veramente anche noi sacerdoti dobbiamo combattere combattere di proprio di mantenere questo punto di vista di Dio chi siamo noi e chi è Dio e per questo ripeto come sempre è importante di perseverare nella preghiera perché la preghiera deve soprattutto di aiutarci di cambiare quel punto di vista di vedere il punto di vista di Dio invece nel nostro piccolo mondo che crediamo in tutto il mondo cambiare quella cosa che Gesù diceva nell'angelo gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date ecco quanto è difficile veramente di fare quello pensate un po' a quel famoso episodio di San Francesco quando diceva ai suoi fratelli quella famosa cosa la 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 letizia perfetta se tu hai ha detto come il franciscano tu hai un convento e tu bussi sulla porta e durante l'inverno sta nevicando fuori e ti guardano e ma chi è così brigante e ti tratta come un brigante un bandito ti butta fuori nella neve e dite vai via San Francesco ha detto a tutti i fratelli questa è letizia perfetta perché San Francesco voleva essere trattato come Gesù che è venuto per amare ogni cosa e guarda ciò che abbiamo fatto noi abbiamo messo in croce così ecco e dobbiamo veramente combattere ogni giorno per non scivolare attaccamento a queste cose all'applauso della gente chi non combatta in questo automaticamente scivola in questa direzione e penso che anche voi genitori anche come i sacerdoti nello stesso una cosa che può aiutarci tanto facilmente voi genitori anche noi preti possiamo vedere voi figli voi genitori potete vedere quante volte che voi fate tante cose per i vostri figli e non sono grati no però spero che questo ci aiuti di capire quanto noi facciamo la stessa cosa a Dio di fare un bello esame di coscienza nella nostra vocazione così ecco cerchiamo di 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 non trascurare la preghiera per poter veramente avere compassione per gli altri in particolare per Gesù come ha fatto Gesù e Maria e che e che che la così ecco cerchiamo cambiando anche questo punto di vista di pensare anche a Gesù e Maria che hanno sofferto tanto per noi e di meditare spesso sulla passione e più che facciamo penso che ti aiuterà tanto di cambiare il punto di vista così quando le cose non vanno tutto bene di guardare il punto di vista di Gesù e Maria e ci aiuterà tanto di cominciare sempre più di vivere per loro invece di vivere per noi di andare avanti nella maturità cristiana che le grazie di cambiare con tanta preghiera il nostro punto di vista laggiù e di fare il punto di vista dall'assù di vivere di arrivare fino a come San Paolo nel secondo lettura che voleva tanto di andare appena possibile in Parisi perché quando io parlo di altre persone di questo che che andiamo a Parisi perché è bello dicono no no non ancora non ancora non ancora ha detto Parisi è bello no no non ancora invece i santi come San Paolo dicono che vogliono andare appena possibile e sapete che anche i santi ci dicono che l'ultima parte di purgatorio è per per quelli che non hanno desiderato abbastanza paradiso e così si passa quell'ultima parte di purgatorio per quella grazia di desiderare paradiso e di vedere tutto dal punto di vista di Dio preghiamo vorrei anche pregare in modo particolare oggi infatti forse anche di offrire questa mesa anche in riparazione in riparazione che forse è per la prima volta nella storia in pubblico domani sarà a Oklahoma City una mesa nera in cui faranno desecrazione dell'ostia perché il demonio veramente crede che Gesù in persona sta nell'ostia e sarà la desecrazione in pubblico per questo in riparazione a Gesù che non possiamo immaginare quanto dolore fa lui che come il padre Pio diceva che Gesù soffrirà fino al fine del mondo per i nostri peccati non soltanto due mille anni fa in riparazione per questa grande dolore a Gesù e Maria ai piedi della croce preghiamo pass qua prognosti a Gesù a Gesù non soltanto che